Assemblea regionale della regione Sicilia con il Sifus, un sindacato autonomo di forestali, qua a seguire le sorti del vostro comparto durante la legge finanziaria. Allora, in primis sono Giuseppe Fiore, segretario regionale del Sifus e la correggo subito. Non siamo un sindacato autonomo, ma siamo un sindacato di base perché noi tutti, compreso io, siamo operai forestali. Quindi il Sifus non è altro che un movimento di lavoratori forestali che si è riunito in un sindacato e siamo quindi in autogestione per cercare di difendere il nostro diritto al lavoro. Noi siamo qua sicuramente perché? Perché in questi giorni l'Assemblea regionale deve decidere principalmente su due norme. In primis si andrà a discutere dell'articolo 19 che parla di bloccare l'egradatore per tutte le fasce, quindi 78isti, 101isti e 151isti. Sì, perché ricordiamo che la vostra categoria è divisa in fasce e divisa anche in turni di lavoro. Precisamente, infatti siamo divisi in 78isti, 101isti e 151isti e operai a tempo determinato. Loro vorrebbero bloccare l'avanzamento per l'anno prossimo, per il 2017, quindi ci stanno togliendo tutto, ci vogliono togliere persino la speranza di passare al contingente superiore che comunque è sempre un piccolo contentino, una piccola caramella, però questa caramella ce la vogliono togliere. Quindi noi siamo qua per protestare perché siamo contro sicuramente questo inserimento nella legge di stabilità. Alessandro Troia, segretario nazionale SIFUS. Quanti sono i vostri iscritti e quante persone sono impiegate nel settore dei forestali in Sicilia? I nostri iscritti primi si sono all'incirca 2.800, arriveremmo fra qualche mese a 3.000 fra le raccolte che abbiamo fatto. Vorrei cogliere l'occasione di fare un appello a tutti i lavoratori del settore agroforestale, sia manutenzione che antincendio. Il nostro movimento, il sindacato SIFUS, nasce per formare un pochettino una reacquisizione di dignità del settore. La nostra è una legge di iniziativa popolare, è come un referendum. Un referendum riacquisisce una sua dignità raccogliendo il 50 più uno dei votanti. Il settore agroforestale purtroppo, per poter far sì che all'ultima commissione sul tavolo debbano essere posti almeno il 50% di deleghe di iscritti. Pertanto, con la forza politica e come il 21 gennaio è stato già pronunciato, la forza dei deputati ci avvallerà e ci darà un aiuto nel mondo politico. I lavoratori dovranno fare il loro rapporto di dare fiducia al movimento per un tempo priormente stretto e veloce, di raccogliere queste deleghe che servono soltanto all'acquisizione della dignità e a passare al contingente unico a 365 giorni l'anno, così toglierci da questo precariato e correre come da 30 anni già a fare la lotta per 78 giorni. Oppure per vedere il collega nelle gradatorie se è uno avanti o uno indietro. Qua in presidio e fino a quando? In presidio saremo sicuramente fino a quando andranno a discutere i nostri articoli e quindi presumiamo se oggi allungheranno sicuramente i lavori anche fino a lunedì, che è il termine ultimo. Vincenzo Figuccia, il sindacato Sifus e soprattutto tante famiglie che attendono delle certezze. Sì, attendono delle certezze perché sono gli unici in Sicilia che non hanno mai potuto avere una progressione rispetto al lavoro che fanno. Lei ha mai sentito parlare di una persona che va all'ufficio postale e quando quello che è davanti a lei finisce il turno lei non deve arrivare? Le è mai capitato? No, in congruenza. In congruenza. Quando anche all'ufficio postale tu sei in fila, quello che è davanti a te se ne va è arrivato il tuo turno. Per i forestali, secondo questo governo regionale, questa cosa non si dovrà fare più. Noi rivendichiamo che lo si faccia e rivendichiamo che lo si faccia perché siamo convinti che, come dicevamo prima, attraverso la valorizzazione dell'agricoltura, della forestazione, fatta prevalentemente dall'impegno degli operai forestali che oggi vengono utilizzati non in maniera appropriata, attraverso l'allevamento e la valorizzazione delle risorse interne, la Sicilia possa rifarci. Quindi davvero non è una, come dire, soltanto dimensione legata alle tutele occupazionali che sono prioritarie, ma la intravediamo come un'opportunità vera di sviluppo per questa terra. Quindi è una vera e propria riqualifica professionale anche per questi signori. Certamente, noi possiamo portare un esempio, che è quello che rivendichiamo insieme all'organizzazione Sifus da qualche tempo, ovvero l'esempio della riserva naturale dello zingalo, che ogni anno produce con un biglietto di 4 euro qualcosa come un milione di euro l'anno. Immaginiamo di poter approcciare con questo stesso modello le riserve, le aree protette, le aree naturali in questa terra, facciamoci quattro conti, coinvolgiamo una multinazionale, coinvolgiamo l'interregione in una chiave produttiva e vedete che questi lavoratori diventeranno pochi e potranno lavorare molto di più. Quindi sfatare il mito dei forestali fannulloni. Questo è un mito che è stato generato dalla politica romana, che ha voluto approfittare di quei politici siciliani divenuti ascari una volta arrivati a Roma, i quali hanno svenduto insieme all'autonomia statutaria anche le rivendicazioni e le tutele occupazionali dei siciliani, si sono inventati questo mito e hanno portato la politica a degenerare tenendo questa gente per decenni dentro delle gabbie. Gabbie altissime come fossero prigioni che a nostro avviso è arrivato il momento di rompere. Loro non li vuole stabilizzare nessuno perché devono rimanere oggetto di ricatto, devono rimanere oggetto di scambio anche elettorale, di volta in volta con le campagne elettorali. Liberiamoci e così poi ci guardiamo tutti all'altezza degli occhi e affrentiamo gli appuntamenti elettorali con libertà. Credo che dopo 30 anni questa gente di essere libera solo merita. Grazie. 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 Grazie.